Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della stone block della serie delle sette Allora ora vi spiego un attimino un paio di cose però prima devo liberarmi di quella gente lì perché Come vedete non era ben illuminata la zona No posso colpire la gente con con le torce beh meglio di niente Ok il primo il primo mi ha visto Nascondiamoci dietro l'angolo per evitare che esploda che non vogliamo che Nessuno di questi creeper faccia cose strane il primo è andato chiamiamo anche il secondo vieni qua bello Vieni vieni bello è solo è un è un efemismo non devi effettivamente gasarti eccitati ed esplodere Nessuno ti caga ok Bello questo inferno messenze questo se non sbaglio serve a qualcosa di utile o no no quanto pare mi sono sbagliato Allora i vostri commenti sono stati molto d'aiuto Allora ho provato a fare delle cose sono state un paio di fail con questi transfer pipe ragazzi È troppo un casino perché nel momento in cui io metto un transfer node Questo diventa solamente un output vuol dire che non posso più metterci roba dentro e diventa un casino Incredibile quindi per il momento l'ho lasciato così in modo che accumulasse roba Mi ha detto poi di utilizzare una chiave per bloccare i cassetti grazie mille qua ho messo delle rest on furnace però giustamente mi dite Cacchio suri però puoi anche polverizzarli così raddoppi la quantità avete ragione pure voi e C'è solo un problema Dovrei mettere dei transfer pipe qui davanti per trasplodare tutto che o Sarà che sono tutti cavi cose va bene però mi piacerebbe farlo anche con un minimo di Estetica lo so che per il momento non si direbbe che tutto schifo brutto però o mi piacerebbe questo questo è l'obiettivo Detto questo mi avete anche detto che ce le ho io i comparator sono qua dentro ce ne ho tre addirittura quindi posso fare il draw controller ed è quello che faremo ma non oggi non oggi perché perché ho una torcia in più nell'inventario Se faccio così la riprende ok avevo una torcia in più va bene Non oggi perché aprendo il mio quest book mi sono reso conto che guarda un po The end man but not really ok ok Tra l'altro qua c'è una roba che dice Acqua mi dice che cosa cosa mi da bion marker non so cosa sia Vabbè comunque random le word androna word no qua c'è la roba con la netherrack Come si fa dice make some netherrack by using redstone una barra il fullo lava This world is in case we lose it and it is the only way to make hell biome ok non Non capisco bene il senso di questa cosa ma sicuramente poi lo capiremo Qua ci sono anche delle delle bamboline quindi capite che molti hanno detto su ma fai il portale del netherr e vai volevo provare ma dopo aver visto questa cosa sono abbastanza sicuro che non esista il netherr che non Cioè non si è abilitato o qualcosa del genere Non lo so comunque nel momento in cui poi creerò un hell biome sono sicuro che poi potrò fare tutta sta roba qui Wicked water which water can be a tutta sunnitimes mobs into more ghastly versions Beh interessante no allora quello che interessa a noi è the end Per raggiungere land devi scavare fino in cima alla dimensione del mining Land come qualsiasi altra dimensione all'interno di questo pacchetto Sono quasi completamente solide cioè sono tutti blocchi però all'interno del land possiamo trovare la endstone e le end oars Quindi io per fare le ender pearl in qualche modo posso Perchè se io vado a vedere qui c'è tipo l'ender crystal Non me lo fa fare vabbè scherzavo però c'era un altro modo c'è un altro modo tipo magari posso trovare qualcosa No non c'erano questi non mi interessano questi Ender fragment magari posso trovarle sì c'era una cosa bella tipo l'ender lily Sicuramente l'ender lily si può piantare sull'endstone e ti da dell'ender pearl posso fare tipo una farm di enderman di ender pearl scusate Stessa roba chance 1 per cent potremmo provare a mettere bonsai tree con decoro sfruita se li troviamo Perchè no così abbiamo delle possibilità di trovare dell'ender pearl Ce n'era un altro non dungeon chest non mi interessa Neanche villager 3 c'era un'altra roba che avevo cercato Che c'è un certo tipo di blocco che rotto ti può dare l'ender pearl che è quello che noi stiamo cercando Solo che qui non riesco a trovarlo ad ogni modo sono abbastanza sicuro che andando nel land porca vacca un paio di ender pearl Dovrei anche trovarle tra l'altro scopertona dell'ultimo episodio e questo reperto e alis manna Giustamente ripara gli oggetti nel mio inventario quindi prima di fare qualsiasi cosa prendo un po' di ferro mi faccio un'armatura Perché i mob sono mob quindi non dobbiamo prenderla troppo sul leggero Mi prendo un miei pezzettini qua di armatura poso anche questa gunpowder che al momento non mi interessa devo assolutamente Organizzarmi e fare una vera e propria Non lo so cesta un vero e proprio magazzino una cosa del genere che al momento siamo un po' disorganizzati Cioè facciamo anche questi cosettini qua potrei farlo di altri tipi ma per il momento il ferro è quello che ho di più Cioè per dirti potrei farlo anche di copper non so se cioè sono abbastanza sicuro se possa fare anche di copper No scherzavo non è il copper quello che può fare l'armatura Ah sì invece più 3 armor quanto mi dà il ferro più 5 ecco vedi meglio il ferro C'è anche il led anche il led ti fa fare le robe però per il momento Le lasciamo lì ora abbiamo un inventario pieno di robe che in realtà non ci interessano questo inferno non è senza in realtà Pusiamo anche questo perché non lo vogliamo che potrebbe essere una perdita di tempo cose varie Una perdita di inventario soprattutto E vediamo capiamo più che altro ora devo scavare come se non ci fosse un domani per arrivare in cima Quindi a questo punto quasi quasi provo a fare così Provo a check and maneuver non lo voglio provo a modificare questo in modo che sia un 1x1x1 single block Ok perché dovrebbe essere più veloce di un piccone di ferro così scavo più veloce e sono contento Al posto di fare un tunnellone 3x3x3 come ho fatto l'altra volta Questa volta facciamo magari una scaracchioccia normale che ci interessa solo arrivare nel led Prendere ciò che ci interessa e tornare a casa Cioè prendere, esplorare un attimino Capire qual è il livello Capire se è possibile trovare delle ender perché è il nostro interesse principale Non siamo venuti qui per scavare siamo venuti qui per raggiungere il rend in qualche modo Ma in realtà siamo abbastanza bassini Ma non è un problema che sono abbastanza sicuro che troveremo delle cavelle che ci aiuteranno E niente devo scavare Che bello Ti dirò la verità in realtà non vedo tutta questa differenza in velocità di Oddio quanto carbone c'era Non vedo tutta questa differenza nella velocità di scavo Tra il flaxbor e quest'altro coso Però qua ci sono un botto di minerali Che il mio Aspetta, aspettiamo un attimino perché così il mio talisman coso può fare le sue cose E riparare E' un po' lento Però deve funzionare Guarda 19, 20, si in effetti è lento come la morte Scherzavo, usiamo il flaxbor Non è un problema Non è mai nella vita un problema Si sale, si sale, si sale Potrebbe volerci un po', signore e signori perché Siamo neanche a 60 di altezza Qui in teoria, cioè Bisogna mettercene molto di più Bisogna arrivare sempre a 200 Qualcosa del genere Lasciamo tempo al tempo Un blocco alla volta Tanto la durabilità di sto coso è abbastanza lunga Cioè è abbastanza importante Dovremmo farcela E tra l'altro sto coso non è che si può credare e fare di diamante Tipo A quanto pare no Però si può mettere l'efficiency Beh, figo Correggetemi se sbaglio ma Allora, in teoria Questo...oddio, scado tutto, non volevo Vabbè In teoria, quando io piazzo una torcia Dovrei finire l'inventario interno Non è che questo inventario interno però viene riempito dal Repair Talisman Cioè questo Repair Talisman mi consente di avere Ad esempio Non lo so Torce infinite Se mai c'è qualche bug di questo tipo Magari le torce possono essere scomposte Non lo so, sto viaggiando troppo con la testa Stiamo un po' zitti che è meglio Uh, Draconium Figo C'era pure un botto Draconium serve Dovremmo esserci quasi ragazzi Tra poco dovremmo iniziare a vedere della Bedrock E una volta arrivati alla Bedrock In teoria dovremmo arrivare all'end Trovare una ricompensa Che già quella è una bella cosa E magari capire come funziona per ottenere dell'enderpearl Anche perché non puoi mettermi la quest dell'end Con l'icona dell'enderpearl Se poi non mi dai l'enderpearl Eh, cioè Diciamolo, eh Io poi mi altero qui Sento degli zombie addirittura Ma quanta gente c'è qua sopra Gente Ma vuoi vedere che c'è C'è la pianura vera e propria qui? Oh mio dio Ma cos'è sta roba? Pericolo Pericolo Lui c'ha l'occhio gogolosi C'hanno tutti gli occhi strani C'hanno gli occhi strani Aiuto, aiuto C'hanno tutti gli occhi strani qua dentro Stiamo calmi Non uccidere mai un compressed skeleton Grazie Allora, la cosa così va è che si ammazza una vicenda perlomeno Quante ceste Ottimo Ottimo Queste ceste danno un botto di roba, raga Allora Cosa mi ha dato? Juicer E altre robe Devo buttare un po' di roba Grazie Buttiamo tutta questa roba inutile Che per il momento Ma che per il momento Ma mai nella vita mi servirà sta roba Via, butta tutto Serbric Pumpkin Cyclic Building Scepter Ma vacci rogazzo Posso costruire cose Ottimo Uncommon Redstone Lama bait Interessante Queste robe non mi interessano Qua c'è Un'altra cesta Rare Vai così Boom Golden boots E ti dirò Anche no Che cacchio I golden boots Ma sono più forti i miei Vabbè buttiamo anche questi va Ok Ora siamo pieni di roba Siamo pieni di mob Actual edition Blacklisted cluster Portacci Orca vacca Solo uno Si m'ha beccato No Eh troppa gente Troppa gente Per i miei gusti Torniamo sotto Scendi Vai Fai esplodere il creeper Fai esplodere Esplodi Bravo Bravo così Come piace a noi Come piace a mamma Ok Ora magari Riprendiamo Non le voglio ste cose Butta Cosmi dai qua Cobweb e una spugna Vabbè Meglio di niente Non le voglio tutte ste robe Butta L'azzur bluet Non la voglio Il resto non ce l'ho già a casa Grazie Questo sembra figo Press shift Posso costruire con questo Cos'è sta roba Normal pattern Normal Non capisco bene Lo capiremo poi a casa Ora Ok Stiamo calmi Stiamo calmi Le frecce le tengo Il bone mi servono Cosa potrei buttare Questi golden boots Ancora Non li voglio Ora Stiamo calmi C'era uno scheletro Che ci siamo persi A qualche parte Colpiamolo Non è compressed Lui per fortuna Org creeper Ok Ok Potremmo essere Effettivamente A posto Forse non c'è più Nessun mob Ok Il fatto È strano che ci sia sta roba È tipo una caverna Sotterranea Non proprio Sotterranea Poi non è proprio Una pianura È solo questa cavernina Che c'è la terra Vabbè Ottimo Vuol dire che in qualche modo Possiamo recuperare La grass Non è male Ora però Non interessa Salire Ancora Di più E arrivare alla bedrock Perché qua sopra Dovrebbe esserci Della bedrock Si spera Altrimenti sono da vuoto Io qua Qua poi noi Scherziamo Il mio flux Bore è quasi finito C'è della terra Mi servirebbe Della bedrock Sono un po' Il piccone di ferro Va Dovrebbero mancare Circa 20 bloc In altezza Se non sbaglio Il punto massimo È 255 Se non ricordo male Alleluia Ci siamo Che succede ora Dai su The end Non è l'end Ok The end But not really Ho visitato l'end Ok Io ho bisogno di prendere Un po' di questa Endstone C'è un qualche modo In cui io posso usare L'endstone Per fare quello che serve A me Dimmi di si Col crusher Crash Danstone Servirà qualcosa Questa crash Danstone No Eh Ok Crash Danstone Mi da l'ender lily 0,5% Ma voi siete pazzi Chorus flower Allora c'è una possibilità Ridottissima Che mi dia robe Però il chorus Flower Poi io posso No Non posso farci nulla Con il chorus flower Io ho bisogno Nel chorus fruit Come posso fare Il chorus fruit Mettendo Eh mettendo niente Chorus fruit O lo trovo O non lo trovo Anzi no Chorus flower Più un Rich Pai to G Pai to Grow Mamma mia Mamma mia Ma che casino Posso dirlo Che casino La mia domanda Ora è Ma io qua dentro Ci posso trovare altre cose Oppure È la fine Di tutto Caputo Bella Levi Così Che potrebbe essere Tranquillamente Eh Nel senso che qua È solo 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 Handstone Io speravo Ci fossero anche Delle mini cavernine Comunque No Non volevo tornare indietro Io in realtà Grazie Non Oh mio dio Dove sono Uh sono a fianco Per tutta che c'è la minimappa Se no mi sarei caricato addosso Allora Quanta Carica ho rimasta qui 50.000 Non è tantissimo Convertiamolo in 3x3x3 E proviamo a scavare un po' Vediamo che succede Non durerà tantissimo Voglio vedere se ci sono dei blocchi Da qualche parte Delle caverne perlomeno Qualcosa del genere Sembrerebbero essere solamente blocchi Ah hai capito Allora in qualche modo Dovremmo riuscire a fare ciò che vogliamo Ok Riusciremo a ottenere delle enderpearl Perché questo gioco è fatto Per essere Fattibile Magari è complicato Però è fattibile Ora Cos'è che posso buttare Lascia Lascia non ci serve Prendiamo tutta l'handstone Che ci servirà un botto di handstone Posiamo Black crystal shard Serve a qualcosa Sta roba Per fare un void crystal Cosa serve il void crystal E in effetti Potrebbe servire a fare cose E teniamolo Cosa buttiamo Le frecce Buttiamo le frecce Che mi frega delle frecce a me Ma si riempie troppo velocemente Sto inventario Buttiamo il carbone Non interessa il carbone Dammi tutto l'handstone E la rotta in flash Buttiamo pure Vai Ok Ok ho 1, 2, 3, 4 stack Quasi 5 stack di handstone Con 5 stack di handstone Mi uscirà un hander lily Porca vacca Quindi questa cosa che devo fare Devo polverizzarla Dentro un crusher Non va bene un pulverizer Io c'ho già pulverizer Ok Anche il pulverizer va bene Devo fare un botto di crash di handstone Quindi E vabbè In qualche modo lo faremo Spero Ok questa mappa è più complicata del previsto Poco ma sicuro Io spero di trovare subito l'handler Per così Facevo i miei hander conduit Ero tutto contento Collegavo tutto Avevo minerali infiniti Invece no Devo sudarmela Ti rendi conto Devo sudarmela Oh Non voglio zone buie qui eh Sennò poi mi spawnano i mob Quando salgo è un casino Cristalli li lasciamo qui Anche perché non c'ho spazio in inventario Guarda qui quanta roba ho dovuto buttare Eccala Ora testate per 200 blocchi Che bello Non sembrava me in effetti Cacchio E' un tunnel lunghissimo questo Prendiamolo Tanto ce l'ho già in inventario Sarebbe comodo Iniziare a usare Gli ascensori Perché so che ci sono Sarebbe molto comodo Per il momento ragazzi Facciamo così Prendo il mio pulverizer Anche se ne ho solamente uno Lo si mette Collegato da qualche parte Neanche qui addirittura Mettiamolo di qua per il momento Tanto è tutto temporaneo E mettiamo a fare Crushed stone Poi li mettiamo tutti dentro un sieve E speriamo di ottenere un ender lila O cosa del genere Per il momento Comunque è tutto Perché ci vorrà un po' Noi ci vediamo Prossimamente sul canale Anzi aspetta Prima di fare qualsiasi cosa Voglio vedere se magari Cambiando la mesh C'è una possibilità No aspetta Devo prima crasharla Crushed Eh Allora sieve Con l'iron stiffened Mi da il draconium Ah Interessante Interessante Con il diamond Mi da La shulker pearl Ma cos'è sta roba La shulker pearl Si possono fare poi Il pearl block Monolith of spawning No ok Ho bisogno di un sieve normale Vabbè Non è un problema Ce li ho Dovrei averlo Più che altro E È un per cento Anzi 0,5 per cento Su alcune cose Se non sbaglio Quindi devo avere Davvero molta molta fortuna 0,5 per cento Un ender lily Però l'ender lily Se non sbaglio La cosa davvero bella È che si può Inserire All'interno No buonanotte Pensavo se potesse Orca vacca Pensavo se potesse mettere Sul coso pot Ragazzi Qualche modo faremo Poco mi assicuro Dammi qualcosa Dai su Dai su 5 pezzettini Per la legge di minecraft Qualcosa devi darmi Un minimo Dai Dai cucciolotto Dai Orca vacca Sarà una bella seccatura Questa Signore e signori Per questo video è tutto Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Cliccate sulla campanella Per non perdervi nessun video Io vi saluto Ciao turuturututti Ciao Grazie a tutti.